Incontro a Palermo organizzato dall'Osservatorio Siciliano per la Democrazia sul tema delle nuove esecutive alla Regione. Ascoltiamo in proposito l'Avvocato Fausto Amato. L'Osservatorio Siciliano per la Democrazia questa sera discuta del nuovo Governo Regione Siciliano. È un'importante novità, riteniamo che un gruppo di cittadini abbia tutto l'interesse di capire e di approfondire cosa può cambiare nel rapporto tra i cittadini e la politica di fronte a questa importante novità che è una novità che nel parorama nazionale stesso ha un suo grosso significato politico. La nostra è semplicemente una necessità di riflessione. Crediamo che ci sia necessità che i cittadini tornino a discutere collettivamente di politica, che la politica non sia confinata soltanto a discorsi che si possono fare a livello amicale ma che ci sia un confronto pubblico su temi così importanti come per esempio quello del Governo della nostra Regione. A questa iniziativa dell'Osservatorio sono intervenuti diversi cittadini comuni, ci sono professionisti, professori universitari, c'è la presenza anche dell'On. Antonello Cracolici. È una discussione aperta in cui speriamo di coinvolgere nel tempo sempre più persone.